Bene, la Presidenza comunque ritiene di passare al voto e intanto ho informato il Presidente Schipani. Metto in votazione l'emendamento 6.21. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. 6.303. Chi è favorevole, chi è contrario, è approvato. 6.23. Chi è favorevole, chi è contrario, è approvato. Per cortesia, eh no, colleghi, colleghi, allora la Presidenza si è espressa, si è espressa molto chiaramente. Io proseguo nelle votazioni. Proseguo, proseguo nelle votazioni. No, proseguo nelle votazioni. La Presidenza si è espressa, ho detto che è stato informato il Presidente Schipani. Proseguiamo, proseguiamo nelle votazioni. 6.304 è inammissibile. 6.305 è inammissibile. 6.306 è inammissibile. 6.307 è parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.24 è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.308, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Per cortesia, la Presidenza si è espressa. Vado avanti con le votazioni. Vado avanti. rispetto anche per la Presidenza. Io vi ho dato una risposta. Rispetto per la Presidenza. Vi ho dato una risposta. Vergogna. 6.26 è parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. 6.309 è favorevole, chi è contrario, non è approvato. 6.27 è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.28 è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.29 è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.30 è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.31, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Complimenti, complimenti, complimenti. La presidenza si è espressa. 6.310, chi è favorevole, chi è contrario, non è approvato. Colleghi, bene, a questo punto sospendo l'aula per 10 minuti. L'aula è sospesa, l'aula è sospesa. Grazie. 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 Grazie.